No, basta, ti sporchi. Funziona? No. Togli la testa di là. Tirati su, tirati su che c'è la patacca di Arizona. Tirati su. Atrizzi, Arizona, hai dritto. Arizona, chiudi le gambe. Le gambe, le zambe. Come vedete c'è tanto spazio. No, le tottoli, fa la cara. Bella, bella, Arizona, è bella. Dimmi, mamma. Ma quanto ti riesci a fare? C'è la mania, aspetta che c'è c'è gli occhi. Ok. Un milione e 600 mila. Ti vedo ferrati sul valore di mercato. Sì. In vendita a un milione e 600 mila londari. Rientra nel budget. Sì. Mancano ancora alcune cose che vengono nel giardino. E non mi piace la strada trafficata. Ci sono grossi problemi.